Signore, il padrino, ri-recensione. Ne ho approfittato avendo visto l'uscita del terzo capitolo restaurata da Coppola, hanno spostato, hanno chiamato End, anzi vi do l'immagine, End ho detto. Il padrino l'epilogo, la morte di Michael Corleone. Invece che il padrino 3 l'hanno accorciato di qualche minuto e ho detto, me ne aveva parlato Francesco Tria che ci segue sempre, ho detto vabbè lo guardo però già che ci sono visto che ci sono stati tutti questi cambiamenti mi guardo tutti e tre e ho cambiato idea sui miei voti ma parecchio. Allora, il padrino 1 diventa un 9. Il padrino 2 invece mi scende, ma parecchio, diventa un 8 e mezzo. È sempre un ottimo film, veramente ottimo. Però ho notato che la parte che mi piace del padrino 2, proprio che mi piace tanto, 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 è quella con, oh madonna, come si chiama? De Niro, De Niro. De Niro che interpreta il padrino da giovane, ecco, lì è la parte che mi piace di più. La parte in cui, la parte normale del film in cui va avanti la storia con Al Pacino, sì, è bella, ma il primo è un 9 alla fine, il secondo è un 8 e mezzo e il terzo è un 8 e scende anche a 7.9. Sia rifatto che non rifatto non c'entra quasi niente. Veramente, è una cosa, forse avrebbero dovuto finirla lì. Inutile andare avanti, cioè, ci sono due capitoli perfetti, però, vabbè, questo è sempre il mio parere, poi ognuno la pensa come vuole. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao ciao!